Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore, dall'odore di narrativa in scrittura creativa per un racconto, per un libro nascono prima i personaggi oppure nascono prima le storie oggi proveremo a ragionare proprio di questo è meglio partire da una storia oppure da un personaggio per assemblare una favola o che altro per quelli che ronzano intorno alla scrittura creativa il tema dei personaggi contro storie è un po' come dire se è nato prima l'uovo o la gallina non c'è una risposta in assoluto a mio avviso la risposta è dipende da cosa dipende? dipende da come preferite immaginare come punto di partenza per ogni percorso diciamo ha i propri pregi i propri difetti vediamoli insieme 1. se partite dai personaggi ecco, immaginiamo che quello che vedete a video sia il vostro personaggio principale lo avrete già caratterizzato vi rinvio al podcast che trovate linkato in descrizione la caratterizzazione dei personaggi la scheda personaggi ecco ma a partire con questo approccio ha lo svantaggio che come potete vedere il personaggio è immerso in uno sfondo bianco sia esiste solo nell'iperuraneo e non ha nessuna storia il personaggio non ha un ambiente di conseguenza dovrete scegliere un luogo in cui calare il personaggio principale e con lui calerete nell'ambiente anche tutti gli altri personaggi ed oggetti che avrete già caratterizzato ma ecco ancora questo non ha affatto una storia vi serve una storia dovrete sintetizzare una fabola poi un intreccio vi rinvio al podcast dall'idea alla fabola pregi di questo metodo i personaggi tutti i personaggi avranno le schede personaggio totalmente complete in ogni dettaglio queste informazioni saranno sempre a vostra disposizione che le potrete inserire nell'intreccio se vi torneranno utili difetti ecco la compilazione totale ed esaustiva della scheda personaggi non è garanzia di elaborare una buona storia inoltre tantissime cose che avrete scritto nella scheda personaggi potreste non doverle inserire nel racconto nel libro perché non sono utili a far procedere la fabola per cui avrete investito tanto tanto tempo in personaggi in caratterizzazione dei personaggi avendo però sprecato una parte di questo tempo non sapendo ancora bene e come andrete come appunto andrete a impiegare questi personaggi nella fabola che la fabola a voi ancora non vi è nota se applicherete un retelling viaggio dell'eroe pure trama convergente o divergente ecco il racconto o la fabola saranno buoni ma la trama ecco chiesa come favola e l'intreccio c'è il rischio che possa risultare molto stereotipata ed a mio avviso forse c'è anche il rischio che sia poco originale poco verdiana con personaggi troppo piacioni rinviva il podcast sospensione di incredulità ed immedesimazione con il personaggio ecco se a mio avviso partite da una storia secondo me è tutto più facile perché la sintetizzazione dell'intreccio vi apparirà in discesa due ecco se partite da una storia una storia potente avrete già tutto quanto sequenziato nella fabola ad esempio la storia di Pompei cioè la storia dell'eruzione e il vulcano la pigni di nubi ardenti incendi lava tutta la storia sequenziabile in fase in una durata oraria avete in mano una bella storia non vi resterà che introdurre personaggi e sub-storie che si intrecceranno nel grande macroevento dell'eruzione vulcanica di Pompei ci saranno personaggi che si saranno salvati perché saranno scappati all'inizio dell'eruzione oppure per viaggi di lavoro ci saranno pochi personaggi che avranno raggiunto qualche barca scappando dalle nubi ardenti mentre tantissimi personaggi avranno trovato un destino triste e spaccalato con storie d'amore di famiglie bambini uomini donne schiavi schiavi animali eccetera in cui incrociare tutti questi personaggi di fantasia con plot tragici e strappalacrime la caratterizzazione dei personaggi sarà quindi successiva e strumentale solo a quei personaggi di una storia con la corale oppure con alcuni protagonisti con tanti punti di vista separati in cui raccontare il dramma dell'eruzione di Pompei pregi se partite dalla storia ossia da una macro fabola avete già più del 50% del lavoro fatto vi risparmierete un sacco di lavoro inutile nella caratterizzazione dei personaggi e nella generazione delle sequenze per l'intrecci saranno ecco a mio avviso più facili da programmare con il foglio di lavoro vi rinvio al podcast il foglio di lavoro come programmare la scrittura di un libro o di un racconto difetti ecco difetti di questo metodo sono semplici se non accettate una bella storia siete nella cacca perché dovrete patticciare la fabola vi rinvio al podcast come aggiustare una fabola esistono altri punti d'inizio oltre a partire dai personaggi oppure dalla storia a mio avviso si usate incipit grafici e sonori per canalizzare il vostro pensiero creativo ad esempio sceglietevi o sintetizzate un'immagine digitale su quello che sarà il protagonista oppure un possibile antagonista poi ponete il personaggio in un ambiente che sia contestualizzato questo vi aiuterà ad elaborare una fabola completa vi rinvio al podcast generi luoghi e spazi ambientazioni in cui partendo già da una caratterizzazione del personaggio principale vi permetterà di decidere il genere del racconto del libro quanto quale tecnica di show don't tell applicare nelle macro sequenze e potrete quindi applicare un facile retelling attingendo ad esempio in permutazione oppure infusione di favole dall'enorme massa di racconti già disponibili vi rinvio al podcast petrolio gratis per autori quali sono i pregi di questo di questo metodo ecco a mio avviso vi aiuta a pensare per immagini per cui lo show don't tell sarà poi più facile da applicare difetti ecco dovete leggere o di aver letto parecchio dello stesso genere di cui volete scrivere e dovrete aver imparato il retelling e le sue tecniche vi rinvio se non l'avete fatto a fruire il podcast retelling archetipi e tecniche c'è poi un altro metodo a mio avviso che è lo show don't tell e la messa in abisso oppure lo show don't tell con la gestione del punto di vista mi spiego meglio costruite un incipit grafico piazzate il protagonista già in un'azione dinamica e coinvolgente per il lettore in modo per far cascare il lettore nel racconto o nel libro poi a usate la messa in abisso per sintetizzare dallo show don't tell di apertura il resto della trama mancante la peculiarità della tecnica della messa in abisso potrà fare da incipi di apertura e chiusura di un racconto alla propria proprietà di una messa in abisso che è declinabile in altro modo ossia è possibile recuperare la messa in abisso come similitudine e senso riassuntivo di tutto il racconto ad esempio Philip Dick il problema con le bolle quello che fanno gli umani con i micromondi è la messa in abisso e poi lo si ritrova in tutto il racconto che fa anche questo da colpo di scena dello stesso dato che la stessa cosa che facevano gli umani ai micromondi sarà ripetuta dagli alieni sugli umani pure rovesciate ed allargate il punto di vista dello showdown tell iniziale con il protagonista riscrivendo lo stesso evento però osservato dal punto di vista degli alieni magari due tipi diversi o più di culture alieni a bordo le proprie astronavi che sono in visita sulla terra per ragioni diverse ricordate se potete ponete anzi se porrete almeno tre punti di vista diversi nel vostro racconto o nel vostro libro ora non sarà necessario porre nel racconto oppure nel libro un colpo di scena e la fabola potrebbe anche essere molto semplice infatti nel racconto l'essere di Richard Matheson la trama non ha deviazioni inattese lo showdown tell è massivo ma i molteplici punti di vista che Matheson pone nell'intreccio permette appunto a Matheson di muovere l'intreccio evitandogli di creare colpi di scena o virate improvvise nella fabola che invece le virate improvvise o i colpi di scena sono necessarie se assemblerete un racconto o un libro con un punto di vista che rimane costante per tutto l'intreccio per invio a fruire il podcast se non l'avete fatto la gestione dei punti di vista segreti di scrittura creativa questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima grazie a tutti